Musica Una grande giocata, io penso che comunque abbiamo meritato perché il Pescara al secondo tempo a parte qualche calcio d'angolo non ha creato molte palle con. La domanda è questa, il Pescara così brutto in casa non si era mai visto merito anche del Trapani o una giornata negativa per il Delfino? Io penso che abbiamo fatto una grandissima fase difensiva, magari brutta prestazione come dici tu del Pescara comunque è dovuta grazie a noi. L'ultima parte mia, è vero che lo scorso anno a gennaio si è stato a un passo da arrivare in Abruzzo all'Aquila in Lega Pro? Sì, a gennaio stavo cambiando però poi sono rimasto a Trapani. L'ultima cosa vi ha detto Cosmi al termine della partita perché l'abbiamo visto davvero euforico giustamente dopo il gol del 2-1, ci teneva a questa partita anche per il 3-0 dell'andata? Tutti ci tenevamo, io non l'ho visto nello spogliato perché sono entrato dopo quindi non so cosa ha detto comunque penso sia felice per com'è andata.